Vittoria sofferta ma esaltante per la Libertas Altamura nella ventitraesima giornata del campionato di Serie C Silver di basket. I biancorossi, al cospetto della Bianca Ostuni, terza forza del campionato, hanno dovuto rincorrere per gran parte della gara, cominciando l'ultimo quarto in ritardo di 10 punti sul 37 a 47. Nell'ultimo parziale, complici oltre 6 minuti nei quali i brindisini non hanno segnato neanche un punto, la Libertas ha recuperato, cominciando addirittura l'ultimo minuto in vantaggio di un punto ma non riuscendo a gestire il finale. Nel supplementare i biancorossi sono riusciti a spuntarla per 69 a 68, realizzando il tiro libero decisivo a 26 centesimi di secondo dalla sirena di fine gara. Nel post partita sono esplose la rabbia e la frustrazione dei tifosi brindisini, che dopo aver inveito contro la coppia arbitrare, per la verità protagonista di un'ottima gara, si sono sfogati contro un vetro del palazzetto. Ma la copertina del weekend sportivo delle squadre altamurane spetta sicuramente alla Leonessa Altamura. Le ragazze di Claudio Marchisio infatti hanno piazzato il colpaccio, imponendosi per 1 a 3 in casa del Cerignola, capolista e imbattuto in casa da quasi tre anni. Le altamurane sono partite forte, imponendosi per 20 a 25 nel primo set, subendo poi il ritorno delle Foggiane nel secondo parziale chiuso 25 a 14. Nei due set successivi, però, le biancorosse hanno chiuso sul 13 a 25 e sul 21 a 25, incamerando altri tre punti fondamentali nella corsa verso il vertice della classifica. Risultati completi e classifiche di tutti i campionati delle squadre murgiane saranno riepilogati questa sera nel TG Sport, in onda dalle 21 e 30.